Che cos'è già lei nella vita? La vita, cioè nella vita uno cerca sempre un qualcosa, io penso di averlo raggiunto nel calcio, non so, c'è chi studia, c'è chi accreditare un qualcosa, io nella vita ho cercato di mettere, non so, ho fatto la credo di calciatore e penso di esserci riuscito. Grazie a tutti.